la sede ragazzi benvenuti sui music fan ciao ciao devo dire che appunto questo nuovo progetto un nuovo disco si discosta innanzitutto dal precedente io sono voluto andare a riascoltare che quello che avevate fatto proprio prima proprio per per capire che quelli che possono essere i punti d'incontro diciamo che se prima parlavate comunque molto di voi stessi questa volta apriti ancora di più un occhio sulla sulla società e anche su quello che non funziona nella società si è centrato in tema il punto perché proprio questo il cambiamento sostanziale tra questi due dischi cioè nel primo era proprio un grido d'aiuto perché nessuno ci ascoltava e quindi l'unica l'unica persona perché non è una persona che ci ascoltava la musica e quindi lì potevamo sfogarci proprio un diario segreto adesso che comunque abbiamo degli ascoltatori qualcuno che da fede alle nostre parole vogliamo cercare di usare le nostre parole per cambiare qualcosa e quindi per quello abbiamo dato uno sguardo alla società in questo disco io direi che anche proprio dalla traccia che apre l'album comunque c'è in questo già si evince comunque quello che è questo tipo di cambiamento è proprio la volontà e in qualche modo avete anche la consapevolezza di quella che è la vostra importanza l'importanza comunque di un certo tipo di musica e di una musica soprattutto che porta determinati messaggi che a volte o forse troppo spesso non sono compresi perché sono un po' annebbiati da quelli che possono essere dei pregiudizi sì vero perché magari la gente non dà credito alla musica perché si ferma molto prima soprattutto quelli che vengono da un altro ambiente quindi che magari si scandalizzano per un capello colorato una cresta un vestito un po' boh espansivo sì diciamo speriamo che boh la musica arrivi perché poi è quello fondamentale io credo credo di sì da un certo punto di vista l'obiettivo chiaramente è stato raggiunto e tra l'altro Sanremo da questo da questo punto di vista può essere considerato anche un punto di arrivo un punto che comunque vi ha dato la possibilità anche di confrontarvi con un altro tipo di pubblico però io credo che televisivamente parlando anche la primissima esibizione con con Alessandro Cattelan in qualche modo vi ha dato già la possibilità di iniziare a prendere confidenza anche con una dimensione nazional popolare come è andata e appunto come la vedete da questo punto di vista vabbè sì Cattelan numero uno sicuramente che è stato il primissimo a credere in noi e a farci entrare nel mondo della tv boh che dire non saprei cosa dire no sì ci stiamo ormai stiamo diventando quasi dei personaggi televisivi esatto quello è il punto all'inizio che noi avevamo timore ad andare in televisione non sapevamo come si doveva fare ma poi alla fine ci siamo trovati super a nostro agio perché siamo noi stessi sempre comunque sia nella musica e sia in quello che diciamo nell'intervista nei vari programmi ci piace la gente ci ha assorbito abbastanza bene dateci un programma ci prendono bene perché magari vedendoci da fuori così ci pensano chissà che cosa poi sentendo la musica capiscono il messaggio ci vedono poi che parliamo in televisione stiamo guadagnando molti punti sì ormai l'obiettivo sarà avere un nostro programma tv datecelo vi prego ma sì sì anche sportivo scherzo perché no beh ma diciamo che un altro aspetto che colpisce del vostro approccio musicale proprio la volontà di arrivare proprio al concreto anche quello che avete fatto con il telefono amico durante il festival di sanremo anche questo è un messaggio e anche questo soprattutto dà la possibilità di conoscere quello che è il mondo la sed e anche soprattutto quello che è un mondo troppo spesso rimasto rimasto emerso sì perché magari sai tanti ragazzi di quelli che ci seguivano non avevano nessuno con cui parlare cioè quando magari avevano problemi in testa davvero gravi e pensavano a cose folli adesso sanno perché magari non c'è manco informazione adesso sanno che c'è un numero che possono chiamarlo quindi sì vogliamo sfruttare la nostra popolarità per cose concrete che non rimangano solo nella musica ma cose sociali sì che poi noi parliamo sempre in maniera molto diretta quindi ci viene spontanea anche questa cosa qui cioè di ogni cosa che facciamo pensiamo sempre subito come arrivare al punto della cosa diciamo che la vostra da un certo punto di vista può essere anche considerata poi una favola lieto fine anche perché quello che è successo per esempio con gli articoli quindi con Love Me e con la possibilità di collaborare con quello che è stato un gruppo comunque storico da un certo punto di vista che era passato comunque dal rap anche un'idea di punk eccetera io credo che da questo punto di vista sia proprio anche la realizzazione di un sogno e anche quel messaggio di trasformazione della rabbia in forza e anche nella possibilità proprio di capire che ci si può realizzare ci si può realizzare con la musica sì anche i nostri fan infatti ammirano molto questa cosa nostra perché ad essere degli scappati di casa come diciamo a noi essere arrivati a un punto molto buono molto bello molto rispettato a fare le collaborazioni con gli articoli 31 perché ci siamo trovati proprio in questa cosa qui sia nel rispetto reciproco sia a livello umano è stato è bello conoscere delle persone così a giorno d'oggi a proposito di collaborazione non si può non parlare di Riccardo che tra l'altro ha firmato anche il pezzo del festival di Sanremo e c'è la collaborazione con i pinguini in maledetta vita che credo che sia una forza delle focus track proprio per il tipo di messaggio ma anche proprio per l'approccio musicale per voi cosa rappresenta questo pezzo? diciamo che è il continuo di quello che abbiamo portato anche sul palco perché di Sanremo intanto la prima sera abbiamo voluto parlare di questa tematica che veniva comunque ripresa a tratti in autodistruttivo e ci siamo chiusi in studio con lui e abbiamo detto facciamo proprio una canzone che possa aiutare queste persone abbiamo parlato di situazioni che conosciamo di persone che hanno vissuto infatti ogni volta che la ascoltiamo anche noi o le ricantiamo ci vengono i brividi su quella canzone è molto importante e molto seria per noi speriamo che venga quella lì concepita nella maniera giusta io credo che c'è un'evoluzione anche proprio nella capacità di parlare d'amore perché se in il mio incubo peggiore comunque parlate dell'amore tossico di quelle che sono le difficoltà di un certo tipo d'amore che poi porta a determinate conseguenze in Sad Girl invece c'è una differenza c'è un passo avanti c'è un passo ulteriore dovuto forse anche al tipo di consapevolezza esatto sì esatto diciamo che vabbè chi ascolta l'album non lo sa ma il mio incubo peggiore è stata la prima canzone che abbiamo scritto dell'album e infatti si sente perché come tematica riprende un po' quelle dell'album precedente però passando il tempo siamo maturati e appunto come hai detto tu c'è stata un'evoluzione anche sul trattare l'argomento dell'amore ed è nata poi appunto Sad Girl che parla dell'amore sotto un altro punto di vista positivo ma sì infatti è quello diciamo il cambiamento tra l'altro anche proprio colpisce questo come colpisce il pezzo con Ross V Lane non lo sai che io credo che sia forse uno dei pezzi più interessanti anche proprio dal punto di vista della costruzione perché da un certo punto di vista io ci ho trovato il massimo della libertà pur avendo un'idea molto precisa sia dal punto di vista testuale che dal punto di vista poi musicale sì in quel pezzo abbiamo appunto voluto tutti e tre scrivere una propria strofa separata dall'alto perché abbiamo raccontato proprio di cose nostre personali fatti personali che avvenivano magari sai dove siamo cresciuti negli ambienti boh il pezzo tutto incentrato su diciavano di me capito quindi boh è figo ma diciamo che di questo disco è bellissimo proprio riuscire ad assaporare traccia per traccia anche forse quella che è l'evoluzione e mi colpisce proprio anche come si incassona molto bene con tutte le varie tracce anche la vostra rilettura con rettore di Lamette perché sembra veramente scritta insieme a tutti gli altri pezzi del disco perché pur mantenendo appunto il vostro disco pur essendo molto eterogeneo comunque c'è quella linea quel comune denominatore che lo rende veramente interessante è un concept sotto più punti di vista sì infatti per quello abbiamo chiamato Donatella anche a Sanremo perché la canzone proprio era completamente in linea con quello che stavamo facendo e volevamo fare sì è un grido generazionale con la canzone come autodistruttivo insomma beh io credo che sia un disco comunque generazionale perché comunque è vero mette comunque in risalto quelli che sono i problemi di una generazione ma allo stesso tempo secondo me permette ad altre generazioni di capire e di cogliere quello che è il disagio e da questo punto di vista quanto è stato importante anche Sanremo proprio nella veicolazione del messaggio? ma con Sanremo come dicevi prima abbiamo ampliato il pubblico perché tutti quanti guardano Sanremo tutti guardano la televisione quindi abbiamo ampliato moltissimo il nostro pubblico le persone ci hanno conosciuto da un altro punto di vista non solo dall'aspetto ma sia dalla musicalità dal messaggio che abbiamo dato molto importante sul palco dall'intervista che abbiamo fatto prima e dopo quindi se vuoi appoggiarmi ma sì Sanremo finalmente ha dato ascolto alla nostra musica capito prima la gente di una certa età diceva boh tossici a prescindere perché per due tatuaggi e due capelli diversi adesso hanno ascoltato la canzone hanno iniziato a capire che non è l'abito che fa il monaco finalmente l'ultima domanda è legata a Fuck the World che è la canzone che chiude il disco che è una canzone comunque che comunque vi pone sotto un altro punto di vista vi pone comunque il vostro sguardo rivolto alla società alle critiche della società quanto è stato importante scrivere questa canzone anche in relazione a quella che è la vostra esperienza live non solamente italiana ma anche se non sbaglio Barcellona e Londra sarà bello vedere la live con la canzone come appena detto perché tutte le persone che dopo hanno ascoltato tutto il disco comunque soffrono di queste di questo disagio di queste critiche da parte delle persone potranno urlarlo e sfogarsi con noi perché è quello che abbiamo fatto noi con quella canzone quindi sarà proprio un urlo di sfogo incredibile ai concerti vedremo la polvere la gente che pogherà che salterà come non mai speriamo che proprio sarà il momento massimo di cui una persona può dire esatto ragazzi io non posso che ringraziarvi grazie caro buona musica io odio la sed odioci 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 grande grazie grazie a tutti Grazie.